Ha suscitato molte polemiche lo studio Veritas condotto su alcuni malati di tumore di Giuliano in provincia di Napoli, nell'area della cosiddetta Terra dei Fuochi, che ha evidenziato un'anomala presenza di metalli pesanti nel sangue di pazienti oncologici. Lo studio è stato condotto da Antonio Giordano, direttore dell'Istituto Sbarro di Filadelfia insieme ad Iris Maria Forte del Crom di Mercogliano, struttura di ricerca satellite del Pascale. Secondo Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, si tratta di uno studio senza nessun rigore scientifico, che crea solo panico e cattiva informazione. Io sono un direttore generale di un ente che ha coordinato una ricerca che si chiama SPES e che parte dal presupposto di avere una correlazione ambientale che questo studio invece non ha. Allora quando parliamo di questa storia rispetto alla Terra dei Fuochi, lo dobbiamo fare con dei presupposti scientifici e metodologici che io in questa ricerca non ho visto. Sono stati presi 100 persone e a queste persone tra sani e malati gli sono state fatte delle attività analitiche. Ora noi abbiamo 5.000 pazienti, persone non pazienti perché noi abbiamo indagato persone che erano sane e questo studio di correlazione si doveva appoggiare su ben altre basi scientifiche. Abbiamo indagato 20 metalli, non 4. Che fai quando trovi una criticità ambientale? Per esempio abbiamo indagato circa 150.000 pozzi. Ho l'impressione che 50 enti di ricerca pubblici abbiano una voce in capitolo. La mia attività di ricerca è svolta insieme all'Istituto Superiore di Sanità, al CNR, all'Enea, al Pascale, alla Federico II e a molte altre università. Credo che tutto questo ha un senso. E allora se ce l'ha questo senso dobbiamo procedere con un metodo scientifico rigoroso. Lasciamo da parte l'agone politico, perché siamo in campagna elettorale e questo non giova, perché se mettiamo al centro la salute del cittadino campano, allora tutte queste barriere non servono più. Grazie.